Gentilissime amiche e gentilissimi amici all'ascolto, anzi al verbascolto meglio detto, ben connessi da Roberto De Angelis. Parliamo del giorno dopo di Francia-Italia al Parco dei Principi, valevole per la National League, dove c'è stata un'Italia a dir poco straripante. Nonostante che Spalletti continui poi a sbagliare, perché già fanno testo, fanno scena, fanno sensazione, le sue dichiarazioni stavolta i ragazzi li hanno messi tutti ai loro posti e li hanno reso. Allora ci hai fatto capire che tu durante gli europei facevi solo sperimentazioni. Per un verso o per un altro la comitiva azzurra non lo so, a sto punto ha snobbato i campionati europei e questo non va assolutamente bene, questa è la sensazione che abbiamo. Se poi sbagliamo opinione, sbagliamo commento, ci può stare, perché l'opinione è sempre mutevole, ma le sensazioni che abbiamo sono queste. E ieri sera poi, dopo un minuto, il primo gol della Francia, con Donna Rumma che ancora si doveva mettere i guantoni, non li aveva allacciati, però è compito dell'arbitro obbligatorio andare a vedere prima del fischio se è tutto a posto. E poi con Di Lorenzo posizionato nei tre di difesa, ovvero sia Bastoni a sinistra, perché è un mancino, Calafiori centrale, e Di Lorenzo come terzo di difesa. Allora, anche tutti, anche forse i bambini sanno che Di Lorenzo non è un difensore puro, anzi, tutt'altro, è un esterno di fascia medio-alta che si adatta a fare il terzino soltanto quando la squadra, chiedo scusa, ripiega. E allora perché metti Di Lorenzo a fare il terzo di difesa? Sul primo gol la responsabilità è di Di Lorenzo, ma dobbiamo dargli un attenuante perché non è un terzino puro, non è un difensore puro, e allora che cominciamo? Ricominciamo a fare esperimenti su esperimenti, e allora Di Lorenzo difensore puro, cambiaso che di solito gioca sulla fascia sinistra messo a destra, perché poi c'era Di Marco che era mancino, e lì quella fascia è stata la sua. La partita è cambiata quando poi ci sono stati dei cambi azzeccatissimi, perché un fantasma che si chiama Lorenzo Pellegrini, mi dispiace dirlo, è il capitano della mia Roma, ma ieri sera è stato evanescente al massimo, è stato sostituito da Raspatori, le situazioni sono diventate più fluide, la Francia ci aveva molto sottovalutato, ci aveva anche snobbato e ha preso tre fischioni, e così sta tutto a posto. Allora oggi dovremmo essere contenti, dovremmo essere felici, dovremmo essere spumeggianti? No, perché ho ancora davanti agli occhi le scene di quell'europeo, di quell'europeo sperimentale, di quell'europeo che hanno voluto fare i piccoli chimici durante le partite ufficiali, così non si fa. Allora Spalletti sarà un ottimo pressionista, anzi lo è per carità, recupererà la situazione della nazionale, io lo spero ardentemente, perché faccio anche il tifo per la nazionale di calcio, ma non riesco ad essere soddisfatto, non riesco ad essere felice, non riesco ad essere gioioso. C'è sempre un'ombra su Spalletti, e secondo me io continuo a insistere, come allenatore di club è uno tra i più bravi e più qualificati che possano esistere, ma come allenatore di nazionale Spalletti assolutamente no per me. Poi, se i fatti mi smentiranno, Spalletti prenderà qualche trofeo, qualche coppa, vincerà a destra e a manca, vabbè sono pronto a fare retromarcia, magari non lo ritengo idoneo per la nazionale, però i risultati dicono il contrario. Ieri sera c'era una nazionale spumeggiante, visto che poi ha recuperato Tonari a centrocampo e quindi c'è il regista che illumina, dopo un minuto era successa un'altra volta la debacle, le nazionali Spalletti dopo un minuto prendono un gol, ma tu non puoi mettere Di Lorenzo come terzo di destra della difesa a tre, lo sanno tutti, e lui però insiste, perché doveva giocare Cambiaso a destra, perché doveva giocare di marco a sinistra, allora lì andava un difensore di ruolo a posto di Di Lorenzo, Di Lorenzo Rente quando lo porti più avanti, come marcatore puro, non ci siamo a dei problemi, di fatti non è un terzino vero e proprio. E poi Pellegrini che dovrebbe fermarsi, curarsi, se ha veramente la pubalgia o qualcos'altro, perché un Pellegrini così è irriconoscibile, non rende onore al ragazzo che ha qualità professionali davvero buone, e quindi sarebbe un attimo da fermarlo e non parlarne più. Qualcuno mi dice che forse la difesa sarebbe stata meglio assortita con Calafiori centrale, Bastoni a sinistra e il terzo di difesa Mancini a destra. Con i secconi ma non facciamo nulla, può darsi di sì, può darsi di no, adesso noi di questo non sappiamo nulla. L'importante è che questa nazionale abbia fluidificato, abbia avuto un gioco in verticale, soprattutto basta con i fraseggi dei palleggi orizzontali, io a te, tu a me, quello all'altro e al portiere, hanno riprovato a giocare, tra virgolette, un po' all'antica con le verticalizzazioni verso gli attaccanti e la situazione è andata bene. Adesso aspettiamo la prossima gara con Israele, non facciamoci illusioni, perché se Spalletti avrà qualche altra sua situazione ideologica da dover sperimentare, aspettiamocelo. Vediamo che succederà, per il momento brava la nazionale, però non saltiamo di gioia, perché abbiamo ancora sotto gli occhi, lo ripeto per l'ultima volta, la sceneggiata degli europei dove i ragazzi sono arrivati distrutti, dove lui li ha messi fuori ruolo, ha fatto sperimentazioni in partite ufficiali poi e dove sinceramente abbiamo fatto una magra, magra figura. Ci vorranno tante belle partite magari per ritornare gioiosi, per ritornare sorridenti. Da Roberto De Angelis è tutto, ci risentiamo al prossimo collegamento, ritorno alla linea, allo studio di Roma, qui da Albinia, il più cordiale di nuovo ben connessi, seguite RDA Radio 1, mi raccomando, e a presto.